Ciao! Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di libera professione e confronteremo la situazione in Svizzera con quella italiana. Si sa che noi medici siamo pessimi a gestire il lato fiscale ed economico e certo questo non è una sorpresa. E come abbiamo visto, Italia e Svizzera sono dei paesi estremamente diversi in diverse situazioni e la componente fiscale non è un'eccezione. Quindi l'obiettivo del video di oggi è di mettere in chiaro alcuni punti sulle differenze del regime fiscale in Italia e in Svizzera per la libera professione. In particolare, per la parte italiana... So già che hai i brividi... Vedremo come farci aiutare dai nostri amici di FiscoZen, il servizio online per gestire la partita IVA italiana, che ti offre una consulenza gratuita per esaminare la tua situazione, dal link in descrizione. Ma andiamo con calma e ti spiegherò tutto dopo. Partiamo dalla parte svizzera, prendendo come esempio un medico che vuole esercitare la sua libera professione qui. E ammetto che, vivendo da tanti anni in Svizzera, per me questa è la parte più semplice, dato che conosco un po' il sistema e le sue caratteristiche. Partiamo sempre dal presupposto che ogni cantone svizzero in questo paese ha le sue particolarità. Quindi, in funzione del tuo cantone di interesse, dovrai verificare se in effetti tutto combacia o se ci sono delle piccole differenze. Ma diciamo che in Svizzera la definizione di libero professionista o freelancer di fatto non esiste. E per gli uffici delle imposte e le casse di compensazione esiste solo la differenza tra lavoratore dipendente e indipendente. Quindi già questo facilita le cose. Ah, e prima di addentrarci nei dettagli, disclaimer. Sono un medico, non sono un consulente fiscale, come ogni medico che si rispetti ho una conoscenza limitata di questo tema. Ma questo canale YouTube mi ha obbligato a capire un po' di più come funziona la parte appunto di lavoratore indipendente. E mi ha spinto a studiare a lungo. Quindi ho deciso di preparare questo video per aiutare te che magari ti stai confrontando proprio adesso con questa situazione. Nonostante la mia buona volontà, te lo assicuro, ma all'inizio, che sia in Svizzera o in Italia, ci si sente completamente smarriti. Si perde un sacco di tempo a cercare delle informazioni che spesso si rivelano inutili o non aggiornate. Quindi il consiglio è sempre lo stesso. Affidati a dei professionisti nel campo prima di iniziare la tua attività da indipendente. E se sei in Italia, so chi consigliarti dopo. La prima cosa da fare ovviamente è iscriversi al canale e mettere un like su questo video. Semplice, no? Seconda cosa, bisogna scegliere una formula giuridica. Per capire di cosa parlo, ti lascio il link in descrizione per vedere quanti e quale forme giuridiche esistono in questo paese. Quella più semplice per noi medici e non solo è l'impresa individuale. Questo ti permetterà di non iscriverti dall'inizio al registro del commercio, a meno che non fatturerai fin dal primo anno più di 100.000 franchi. Altro punto importante è l'affiliazione alle assicurazioni sociali. Abbiamo parlato a lungo in altri video dell'assicurazione malattia, ma non dimenticarti che dovrai anche iscriverti all'assicurazione sociale, ovvero versare i contributi della cassa pensione. Se vuoi saperne di più, ti rimando a questo video che tratta l'argomento delle pensioni in dettaglio. Ma tu sicuramente l'avevi già visto, vero? E nel caso tu non sia un salariato e la tua attività indipendente non costituisca esclusivamente un'attività detta accessoria, ma sia veramente la tua attività principale, ovviamente non dimenticarti anche l'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria. Qui non parliamo di imprese condipendenti, perché altrimenti andremo veramente fuori allo scopo di questo video. Per rispondere a questa domanda contattate un vero commercialista piuttosto che ascoltare me. Piccola parentesi sull'IVA. In linea di principio tutte le imprese sono soggette al pagamento dell'IVA, ma di fatto se il fatturato è meno di 100.000 franchi annuo, l'impresa è esente dall'IVA. Quindi una grossa differenza rispetto all'Italia è che un lavoratore indipendente per cominciare la propria attività non avrà bisogno per forza di avere una partita IVA dall'inizio. Fantastico, no? Oltre all'assicurazione sociale ovviamente il lavoratore sarà soggetto al pagamento delle imposte. Per riassumerla in grandi categorie, in questo paese esistono un'imposta federale, un'imposta cantonale e un'imposta comunale. Quindi facciamo il punto della situazione finora. Se vuoi cominciare la tua attività da indipendente in Svizzera devi scegliere la forma giuridica che più rispecchi la tua attività. Se sei un lavoratore autonomo, se non hai dipendenti e se l'attività dipende da te, probabilmente l'impresa individuale è la soluzione adatta per te. Poi affiliarsi all'assicurazione sociale, AVS, AI e in base al tuo fatturato anche il secondo pilastro. Vai a vederti il video. In seguito, assicurazioni infortuni, dichiarazione di inizio di attività alle autorità cantonali, pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali e se fatturi più di 100.000 franchi all'anno, iscrizione al registro di commercio e pagamento dell'IVA. Tutto sommato abbastanza semplice, non trovi? Ora passiamo al nostro caro paese. Come fa il medico a lanciarsi in un'attività indipendente in Italia? Come ti accennavo all'inizio, per non raccontarti storie, ho chiesto aiuto ai ragazzi di FiscoZen. È un servizio online che aiuta i liberi professionisti a lavorare facilmente con la partita IVA. Per farlo, ti viene assegnato un commercialista dedicato, specializzato nella tua professione, che puoi contattare via chat, email o telefono. Hai anche un'app che ti permette di gestire la fatturazione elettronica, la dichiarazione dei redditi e calcolare le tasse in tempo reale. È comodo e facile da usare. Quindi, se vuoi aprire una partita IVA o ne hai una e vuoi gestirla in modo completamente diverso, FiscoZen mette a disposizione una consulenza gratuita. Se la prenoterai dal link qui sotto in descrizione, avrai anche uno sconto di 50 euro sul primo anno. Quindi, dicevamo, come lanciarsi in un'attività indipendente da medico in Italia? Infatti, che tu faccia attività intra o extra moenia, o tu faccia semplicemente attività privata, a un certo punto la domanda che ti darà sveglio la notte sarà Quando mi serve la partita IVA? E a questa seguiranno una serie di altre domande. Come apro la partita IVA da medico? Quale codice a teco devo scegliere? Posso soffrire del regime forfettario? Se sì, quando? Quanti contributi dovrò pagare? Dopo lunghe giornate a studiare la tematica, posso riassumerti i punti principali per avere una infarinatura della situazione in Italia e per capire chiaramente che è meglio affidarsi a degli esperti. L'apertura della partita IVA è indispensabile in tutti quei casi che ricadono nella libera professione. Ovvero attività privata, quindi un medico che svolga esclusivamente attività in studio direttamente coi pazienti. Oppure attività extra moenia, ovvero un medico che è assunto nel sistema pubblico ma che svolge una parte della propria attività privata in altre strutture. Un po' come un secondo lavoro, quello che in Svizzera potrebbe essere l'equivalente di un'attività accessoria. La parte più complessa non è certo quella di aprire una partita IVA che avviene in modo del tutto gratuito e per via telematica. ma è prendere alcune decisioni che andranno sicuramente a incidere sul futuro di questa attività. E qui parliamo appunto di regime forfettario, ordinario e di codice a teco che varia in base al grado di specializzazione del medico e in base al tipo di prestazione fornita. A tutto questo si aggiunge anche il pagamento dell'EMPAM che si divide in una quota A che è obbligatoria per tutti i medici iscritti all'ordine dei medici italiani e una quota B che invece è riservata solo ai liberi professionisti. Quindi se oltre alle 15 ore di lavoro al giorno vuoi affrontare la foresta fiscale da solo, fai pure. Se invece vuoi goderti di quella mezz'ora che ti resta nella tua vita per farti vedere dei tuoi cari e dirgli semplicemente Oh, esisto ancora? O non so, andare a correre, farti un aperitivo o approfittare per vedere i miei video? Allora fatti aiutare dei professionisti di FiscoZen e prenota una consulenza gratuita e senza impegni. L'apertura è gratuita e ti lascio il link qui sotto in descrizione per poter beneficiare di uno sconto di 50 euro sul primo anno di servizi. Quindi, se hai domande a riguardo, non tergiversare, clicca nel link qui sotto e prenota la tua consulenza. Gli esperti di FiscoZen esamineranno la tua situazione. E basta adesso! Per oggi è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!